Il Pio Cordiale è ben ritrovati, nuovo appuntamento con il nostro telegiornale d'Abruzzo. In apertura si svolgerà domani all'ospedale di Chieti l'autopsia sul corpo di Carolina D'Addario, la donna di 84 anni trovata morta in casa sabato scorso. L'ipotesi è che si sia trattato di un malore fatale, ma è giallo su alcuni gioielli spariti e su una ferita alla schiena. Ci aggiorna Jessica Balestra. Vogliono vederci chiaro i familiari di Carolina D'Addario, l'anziana di 84 anni trovata morta nella sua casa di Gisil 23 dicembre scorso. Per questo hanno chiesto ed ottenuto che sul corpo della donna venga eseguita l'autopsia. La Procura di Vasto ha affidato l'incarico al dottor Pietro Falco, che nella giornata di domani, venerdì 29 dicembre, effettuerà l'esame autoptico nell'obitorio della Policlinico di Chieti. L'ipotesi dell'infarto come causa del decesso non convince i parenti di Carolina, dal momento che alcuni oggetti, come la fede, un paio di orecchini e una collanina d'oro, sembrerebbero misteriosamente spariti. Non solo perché sulla schiena della donna sarebbe stata rilevata una ferita. Sarà dunque l'autopsia a sciogliere il nodo, se quella lesione sia la conseguenza di una caduta o di un'aggressione. Nel frattempo tutte le piste restano aperte. A dare l'allarme, sabato scorso era stato un passante. L'uomo stava attraversando il dialetto esterno all'abitazione di Carolina quando ha notato il suo corpo riverso sul pavimento, in posizione prona. Immediatamente aveva avvertito il figlio della donna e i sanitari del 118, ma all'arrivo dei soccorsi per Carolina non c'era più nulla da fare. Un contributo utile alle indagini, affidate ai carabinieri di Vasto, potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere a circuito chiuso del comune di Gissi. Nel frattempo l'abitazione del centro storico, nella quale la donna viveva da sola, è stata posta sotto sequestro. Secondo arresto in pochi giorni per un 61enne di penne che stoccherizzava una giovane cassiera. Rossella Luciani. Con la scusa di fare spesa ogni mattina, da oltre un mese perseguitava la dipendente di un supermercato, presentandosi sul luogo di lavoro della giovane, tra dichiarazioni di amore deliranti, effusioni e vessazioni di vario genere. L'uomo è stato arrestato nelle ultime ore dai carabinieri, anche grazie alla denuncia della vittima. In manette, per la seconda volta in pochi giorni, è finito un 61enne di penne, accusato di atti persecutori. Il 21 dicembre scorso i militari lo avevano arrestato in flagranza di reato per averlo trovato con un coltello in tasca, mentre infastidiva i clienti nei pressi dello stesso supermercato. Le immediate indagini hanno consentito di ricostruire i fatti e di appurare che le attenzioni del 61enne si concentravano sulla giovane, che viveva ormai nell'ansia e nella paura. Proprio dopo l'episodio dei giorni scorsi, la ragazza, grazie al dialogo con i militari della compagnia di penne, compresi i rischi che stava correndo, ha deciso di procedere penalmente nei confronti del suo stalker. I carabinieri hanno così avviato una serie di accertamenti e servizi a tutela della ragazza, evitando che pericolosi comportamenti potessero degenerare e mettere a repentaglio l'incolumità fisica e psichica della vittima. I militari agli ordini del capitano Alfiora Pisarda, grazie ad un servizio predisposto all'interno del market, hanno arrestato in flagranza di reato l'uomo, sorpreso in atteggiamenti aggressivi e verbalmente violenti nei confronti della giovane. Il 61enne è stato accompagnato nelle camere di sicurezza del comando della compagnia, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. E ora siamo a Colonnella, morì in un incidente alla Stam, travolto dalla pala meccanica azionata dal collega. La sbarra il titolare della ditta, la procura accusa l'imprenditore di non avere garantito la sicurezza dei dipendenti. Sentiamo. I farmaci che assumeva non hanno modificato le sue capacità e non hanno, di fatto, influito sull'incidente. Lo ha ribadito in aula il tossicologo Mariano Cingolani, consulente tecnico nella morte dell'operaio Aldo D'Agostino. L'uomo di 62 anni, residente a Canzano, perse la vita nel giugno del 2018 in un tragico incidente sul lavoro alla Stam di Colonnella, in zona Valle Cupa. Venne investito dalla pala meccanica guidata da un collega. Quest'ultimo venne inizialmente indagato e poi prosciolto da ogni accusa. A processo con l'accusa di omicidio colposo resta invece l'imprenditore Mauro Scacchia, come datore di lavoro e responsabile legale della cooperativa Servizi Ecologici Ambiente e Territorio, nonché della stessa sviluppo tecnico-ambientale, cioè Stam. La procura di Teramo gli contesta di non aver predisposto, nei locali in cui avvenne l'incidente, un'adeguata illuminazione naturale ed artificiale affinché i lavoratori potessero muoversi in sicurezza e di non aver riparato due dei sei proiettori del reparto ossidazione, di non aver compiuto un'adeguata manutenzione delle attrezzature, compreso il segnale acustico ed ottico sulla pala meccanica, che ne indicano il movimento, infine di non aver previsto percorsi separati per lavoratori e mezzi. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile. A giugno si torna in aula. Due minicellulari sono stati rinvenuti nel giorno della vigilia di Natale all'interno di un pacco postale indirizzato a un detenuto recluso nella sezione alta sicurezza della carcere di Castrogno a Teramo, inviato da un familiare. Gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno trovato i due dispositivi all'interno di un incavo avvilmente ricavato da un plico di atti giudiziari. Dopo le attività di rito, il familiare e il detenuto sono stati denunciati. Per Giuseppe Nino, segretario regionale Abruzzo della SAP, il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, il ritrovamento di telefoni cellulari in carcere non rappresenta una novità. Sempre più spesso gli agenti li trovano nascosti nei fondi delle pentole, nelle scarpe. Negli ultimi tempi, sempre più spesso, vengono utilizzati i droni per cercare di recapitare i dispositivi durante la notte. Voltiamo pagina, polemica del consigliere regionale del PT, Pepe, che punta il dito contro Marsilio, imprudente per le loro mancate risposte al mondo dell'agricoltura che sta vivendo un particolare momento di crisi. Marsilio e la giunta regionale d'Abruzzo hanno definitivamente abbandonato il settore agricoltura. In questi giorni decina di migliaia di agricoltori sono scesi in piazza con i loro trattori per manifestare tutta la loro derusione circa le decisioni della giunta Marsilio, imprudente. Sappiamo tutti che quest'anno oltre l'80% del settore vitivinicolo ha perso la propria produzione per la peronospera. Da qui e tutte le sigle sindacali all'interno del consiglio regionale abbiamo aperto una discussione per chiedere ristori, indennizi a questa giunta regionale. L'assessore imprudente non è venuto nemmeno in commissione a spiegare il bilancio di previsione 2024, ovviamente per la vergogna, poiché hanno dimenticato gli agricoltori, ma hanno ben pagato il Napoli Calcio con i milioni di euro della nostra regione. E ora siamo al calcio, ha preso il via ieri il torneo giovanile nazionale One Family Sport organizzato in collaborazione con il Teramo, proprio in Casa Biancorossa, Telebanco, il mercato. Giussi Cingoli. È scattato ieri pomeriggio il torneo nazionale di Natale One Family Sport organizzato in partnership con il Città di Teramo 1913 e riservato alle categorie giovanili Under 17 e Under 15. Quattro i gironi per ogni fascia di età, 24 le partite giocate ieri nella giornata inaugurale, con quattro impianti sportivi per l'occasione, il campo sportivo Acquaviva a Teramo, il campo sportivo di Nobesso di San Nicolò, il Pilacieli di Montorio e il Renato Ruggeri di Villavomano. Nella categoria Under 17, partenza lanciata del Pineto e del Grifone, con due successi, goleada per Triestina e Ascoli, per l'Under 15 invece successi per spesse Montesacro e Pineto e il Città di Teramo 1913, che invece ha avuto ragione contro il Montorio. Partecipano a questo torneo giovanile anche le squadre del Napoli, Pescara, Ternana, L'Aquila, Vezzano, Montorio e Alvomano, la Bonolis e il Città di Teramo. Oggi terminerà la fase a Gironi e si giocheranno nel pomeriggio anche i quarti di finale. Domani si terranno invece le semifinali e le finali. Tornando al campionato di eccellenza, il Città di Teramo continuerà oggi pomeriggio la preparazione sul sintetico di Torricella Sicura, non potendo disporre del vesto di San Nicolò. Nelle ultime ore, la società biancorossa del presidente Filippo De Antonio è impegnato sul mercato a fare un ultimo sforzo per rinforzare la rosa degli Under. Il IS Paolo D'Ercole ha già contattato una squadra di Serie C per portare a Teramo, appena si aprirà il calciomercato dei professionisti dal 2 gennaio, un centrocampista Under interessante e di prospettiva, il cui nome al momento è Top Secret. È tutto anche per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento sulla nostra rete.